ok ci siamo siamo qua in mezzo a una tempesta di pioggia ma benvenuti col vecchio warlock riscaldato da una tisana di te ti riscalda il cuore tempeste fuori caldo qua dentro il replay di dota allora io volevo farti vedere questo replay non ti voglio spoilerare perché è un po' insolito devi dirmi tu come va a finire sicuramente vincete o se non vincete perdete per qualcosa che succede partiamo dalle squadre eravamo appunto io schillo scipio e lego e pur random pur random che vi posso già spoilerare sarà un russo e questo è già la pre gusto già guarda è già un anticipo mentre loro penso proprio erano tutti insieme loro cioè penso erano tutti i cinque ok qua c'è la selezione dei pg io 50 minuti io mi prendo subito l'elder titan perché lo volevo provare sono i primi giorni che è uscito alchemist il blu alchemist il russo aspetta scipio ora si prende la queen la solita queen di scipio avrà usato la mano di mida sui mod forti no così guadagno alla fine è minore aspetta perché questa è una delle partite più insolite ovviamente loro aspettano ci fanno scegliere noi io la queen of pain e la presa cosa scipio scipio io premetto che l'elder titan sarà la mia seconda partita e non lo sapevo usare cioè comunque me lo aspettavo diverso si sarà andata bene per qualche motivo me lo sento dal tavolo vedrà è andata male no ma io me lo aspettavo come personaggio data la stazza me lo aspettavo un pochino più resistente no questo è l'elder titan invece viene giù tipo la crystal maiden si 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 ce l'ho avuto contro io la scorsa partita eravamo io e skillo in lane e lui lo mandavamo sempre in base a reccare la fontana è grossissimo ma non cazzo di difesa devi comprare lo scudo all'inizio è questo no questo qua che c'ha l'alchemist eh lo so guarda loro che team che si sta formando addirittura il night stalker che team che si sta formando bastardissimo fa un mucchio di danni con quella si si la prima del night stalker è assurda e il page e il page che tu dici merda non hanno carry pesanti tranne il night stalker quindi e forse la broodmother ma neanche noi eravamo il migliore dei team eh no però c'è l'ego l'ego stavo usando un po' un insolito lice per lui perché non è famoso l'ego no con lice io sono famoso con lice skillo si col tiny anche lui non ce l'ho visto ci ha preso molte più io sceglievo uno che non sapevo per un cazzo usare sci più è bravo con la queen e questo è un punto interrogativo logger e magico parte già male sempre contro no l'alchemist l'alchemist no ma dico logger e magi sempre contro si e guarda caso con gente miliche e con il bloodlust sbacca tipo page si è ovvio vabbè io quindi vado in lane se non sbaglio con l'ego in top in mid ci va il litch quindi no ok ci va la queen ci va scipio però ti dico si possiamo essere buono come team ma più o meno non avevamo tutta questa dimestichezza con il pg no? skillo col tiny eh? skillo col tiny mid o la queen anche ma il tiny mid è molto buono eh si io non me ne intendo sul tiny a un bel pg mi piacerebbe però voleva fare il carry lui perché nella partita precedente no no aspetta però aspetta no ti dico ti dico il prequel di questa partita la partita precedente l'avevamo giocata con i nostri tipo l'ego l'ion io lo spirit skillo l'ashrack no? ed era finita tipo in una ventina di minuti e abbiamo detto ah 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 tra grassi esatto facciamone ancora una no dopo ripli e sgazzati ci siamo presi un po' dei personaggi alternativi no? in questa ora è risultato no? sarà ma quanto dura sta partita? quella di prima? quella di prima? quella di prima? quella di prima? 20 minuti era durata ma tra l'altro tu hai il light stalker e l'ogre e magi insieme ti hanno fatto un culo così? aspetta aspetta che tra l'altro con il litch cioè volendo schioccavano le dita esplodevamo noi che skill hai preso? adesso ho preso lo stomp prima skill devi prendere lo spettro si vabbè ma se non hai lo stomp che cazzo fa lo spettro? e lo stomp ti serve solo per stunnare e fa anche un casino di danni eh è meglio io lo terrei per stunnare io maxerei lo spirito e la ult ma sai che lo spirito se tu lo lanci addosso guarda la broodmane se lo lanci addosso non fa niente eh ma fa male si fa solo danno da passaggio si si se però sta male uno sta scappando tu glielo lanci e lo uccides si si certo è il passaggio che gli fa male si si anche il ritorno fa male non è male visto glielo lanciato e gli ha fatto male si 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 certo l'ho usato vabbè l'ego qua giocava bene perchè giocava aggressivo no? e quindi se vedevi stavamo addirittura pushando noi cioè insolitissimo basta sarà il delirio se mi dici così se vedi stavamo addirittura succederà qualcosa di irreparabile tipo che arriva a paggi con l'arpione lo tira dal mid e arriva in top aspetta aspetta secondo me tu non hai mai visto ancora una partita del genere non è che siamo livelli 100 però per ora che siamo sul 20 io ne ho viste poche partite così ecco vediamo sono curioso ma è bello che noi eravamo uuuuuh eravamo gasati da quella precedente eravamo lì quindi eravate sicuri di voi non ci aspettavamo questa carogna vabbè tra l'altro l'alchemist contro la Broodmother è buono perchè gli lascia il dotti sulle ragnatele non so perchè lo mettesse lì nel mezzo e non sulle ragnatele sta giocando bene l'alchemist evidentemente ora qual paggi in cassa ma per forza la Queen of Pain si si blinka via anche se gli facesse l'arpione uno si blinka non riesce a fargli la ulti che relax rivedersela con una tazza di tè veramente lì c'è stata una tensione cioè siamo a maggio ma fuori il tempo ti potranno di spade no? intanto vabbè minchia qua la foresta devastata eh ma quando mette la ragnatele fa sempre così l'altro è stupido perchè non può fare gli agguati così cioè solo per tirare gli due colpi e lui guarda lo schieno quanto io ho tolto eh si si è stupido quello che usa la Broodmother dovrebbe stare in stealth e lanciarti l'iniezione dei cosi dei ragnetti che fa 300 guarda qua come si faceva calda la situazione da noi era più tenuto cioè perchè Lego spingeva comunque mi cazzo non dice dai io ci avrei buttato già in mezzo a cosa guarda come sta facendo un sacco di arrasso eh Lego sta giocando bene però guarda guarda yeah visto che è servito lo stamp Lego si è salvato ovviamente l'ogre è un cassone comunque non sono riuscito a tirarlo giù ho doppio danno Pudge sto aspettando di tirare un arpionata ma è stupido l'avete distrutti allora aspetta aspetta dai ma stupido madonna guarda Schillo ma Schillo era da sola comunque cioè stava passando male come al solito Schillo non si possono avvicinare lui si è salvato di culo l'alchemist back upava sempre se il ragno avesse avuto i ragnetti da lanciargli l'avrebbe ammazzata si è bruciato un'occasione abbiamo iniziato con un 2 a 0 Fortunaterra bello ma allora se vi hai detto così vuol dire che perdete alla grande aspetta aspetta come sei ansioso te uomo spoiler keeper of the spoiler e io spoilerò tutto con stile tra l'altro prima ho spoilerato il finale della prima stagione al trono di spade a Luke ah ecco perché ha scritto spoiler io non me la vedo ok va bene allora succede questo ma come questa non voleva vedere eh infatti però io guarda qua la violenza quando lui ha detto che non lo vedeva io pensavo non lo volesse vedere allora gli ho detto il finale guarda volevo vederlo io lo spoilerato guarda che stupido l'alchemist cioè non se la dava che c'era la broodmother invisibile non capisco perché lei non lo uccida una becca pace evidentemente qua mi fanno giustamente e si comincia 2 a 1 si comincia vuol dire che succede qualcosa si comincia vuol dire che succede qualcosa Pudge va in bot come andrà a finire questo gank malissimo per skillo guardali guardali guarda come si stringe la morsa proprio scorreggia e lui si fa prendere dall'arpione no cosa sta facendo skillo eh questione di attimi porca miseria ma gli è andato addosso doveva scappare e Scipio qua tenta il ganking top che sarebbe servito più in botta a quel punto infatti skillo ci ha sclerato con Scipio vabbè anche divergenze pure interne vabbè ma lì non lo potevano sapere vabbè però Scipio se sai che manca vai giù cosa ne so ma gli ha ucciso il carriere loro si incazzano a bestia giustamente e gli fanno il culo perchè adesso basta tirargli uno stun il fatto che io mancavo quella cazzo sarei potuto servire dai fanno logre perchè si è fatto ammazzare? così poteva fare perchè avaro Scipio stila lui eh poteva scappare se la faceva a Lego con calma si 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 per l'altro lui gli prendeva lo stesso i soldi per l'assistro si 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 e un altro doppio danno Pudge un altro Pudge quando ti attacca in mischia col doppio danno è devastante comunque la Broodmother guarda quante ward aveva qua bastardo eh sono delle ragnatele ma vedi solo un'area molto piccola si cioè è giusto utile se ci passa uno sopra cioè ti rendi conto che ha avuto due volte il double damage adesso ti prende nooo ma non lo sapevo guarda riguarda gancano gancano di peso cerco di salvarlo niente da fare scappa scappa dura mezzo secondo sul Pudge non ho capito perchè perchè Zui si autodanneggia ogni volta lui è l'anti elder perchè quando tu usi lo stun non è uno stun fisso è uno stun che praticamente ti mette a dormire quando ricevi e dura top secondi oppure finchè non prendi dei danni lui autodanneggiandosi con la cosa ma con cosa si era autodanneggiato? con la nuvola lui si autodanneggiato si si ah si ammazza con la scorra si 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 olie guarda lui perde vita guardalo infatti la disattiva subito e quindi avendocela attiva lui è immune dal tuo stun si ma ti rendi conto l'alchemist dove cazzo era andato? era andato qua in giungla dai daire che cazzo c'entrava da solo? con la torre ancora schillo mi immagino non è come giuste qua sarebbero volate cuffie si si veramente cuffie pugni in faccia siamo già 8 minuti e sono state fatte 11 kill cioè non è male ho tutte le rune tutte tra l'altro aveva la bottiglia stracolma lui si è trovato due iste e due double damage qua lego solo scopano figurati ma perchè il leech però guarda è stato bravo eh sta morendogli ha lanciato la panna finchè sono vicini ma perchè finchè sono vicini guarda sto grassone di me se li ha fatte tutte quindi ha recuperato la vita vedi adesso gli ha lanciato gli ha lanciato la cosa dei piccoli stavo aspettando me paggia mi volevano proprio chiudere ole tra l'altro è facile da prendere l'ender niente gli è entrato un multicast a casa è l'ennesima death dai l'ammazzo sanguinoso no per ora è una mezza arista ma è morto schillo in bot schillo pare i dardi avvelenati con un braccio e con l'altro tira al destro al vader tipo il boy no questo qua è scemo perchè non sta gianglando il night stalker si quando è notte se non c'è attività in lane lui dovrebbe andare a gianglare è una bestia di notte o fare i gank che è ancora meglio però se non c'è nessuno se ne è che si cagava addosso di lane eh ma se non c'è nessuno vai un attimo in giungla tanto corri talmente veloce che non ti sta nessuno dietro e questo cazzo di i tp non esistono per per cosa per logre magico no no zero e beh era assolutamente morto come si fa strada con la mano destra hai visto guardalo vediamo cosa fa c'è logre magico ancora ti rendi conto il classico russo di merda olè si fa riscopare ti rendi conto e skillo guarda terzo double damage e non lo prende ah se si usa la bottiglia e poi lo prende certo ormai è stra pieno di roba skillo a tenersi una lane da solo guarda quella lanciata da bane e lui adesso se gli tirano le punte no 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 madonna che grosso guarda che guarda che aggressività qua qua mi avevano detto finiscilo no io stavo scappando perché avevo visto anche gli altri poi mi hanno detto torna indietro qua guarda un po' devastato e io non mi ingralano con l'elder titan niente da fare cioè ribaltata proprio hanno preso uno stacco della madonna in undici minuti tra l'altro in undici minuti un massacro anche questa sarebbe potuta finire velocemente no teoricamente arriva scipio si è disconnesso si è disconnesso no 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 però qua continuano a killare ma si fermano dai anche loro ma che altro hanno fatto farmare page lui adesso si gira e gli fa l'arpione ma cosa sta facendo? niente si fa killare e cosa vuoi che faccia? dai skidlo difendilo va bene ci rinuncia l'ego cerca di prenderlo nel fiume eh ma non è un team tanto ben assortito no no per niente ma più che altro eravamo proprio poco abili ognuno con l'opg soprattutto io con l'elder non son capace non ero capace anche tuttora ho usato due volte non è facile obiettivamente qua ci scatta la pausa paura eh 16 a 7 wait for ah è giusto dai aspettare si si jessica tu prendevi le word eh si l'alder è anche un support si ho capito minchia se no cioè boh fa le mettere al leech le word lo so ma io l'ho riempito il punto di word anche in situazioni disperate per forza servono secondo me poi non costano così tanto no vabbè ho capito però sai poi anche skillo eh poi anche skillo eh le ha prese ha preso le sentry lui per vedere chi la paggia ripresa la partita tra l'altro non noi eh non vuole aspettarlo lui vuole venire a gararti si si è un cazzo di carnefice di merda qua skillo mi ricordo che mi ci fa ma perché l'hai usata chissà eh skillo perché l'ho usata la ultima vabbè eh scelta di tempo poi ci mette anche tre secondi ad attivarsi la ultimate cioè tu fai la spacca fai il percorso guarda guarda il paggia un bocconcino su un piatto d'argento l'alchemist ti rendi conto che testa di cazzo più che altro sa che in giro c'è paggia e non sta dietro il manio no no sta neanche nel brucco marla marla guarda che uno sacro ora arriva paggia ma tra l'altro già dici stack perché ce li aveva retroattivi quando li attiva quando poi prende la passiva si attivano e qua rimette pausa la broodmaner cioè stavano comunque rullando eh loro non c'era motivo andavano bene così però forse paggia avrebbe fatto meglio se invece di fare il ruolo dello spirit e di andare a prendere quello che puscia nel lane da solo fosse stato nei teamfights ci prendeva in uno spezzava la superiorità numerica o parità numerica e poi gancavano tutti insieme e ci sfondavano tutti invece lui c'è un pero adesso lui si divertiva cazzo a prendersi la che mi sta a prendersi cosa ne so lego eh faceva faceva i suoi tre gitti ma non stava nel teamfight per ora però era una bestia eh li ha azzeccati tutti i ganci ha preso tutte le rune white white con la H reconnect si si napoletano anche lui si stavano andando a prendere lego eh mi sa tanto ma paggio va usato così una volta che arrivi al 6 devi andare in giro nelle lane se c'è tipo un punto di stasi che ci sono i due gruppi lui è l'iniziatore per eccellenza prende uno basta gli altri si scoraggiano anche il silencer si si è buono ti immagini paggio e silencer gancio quelli provano a reagire mutati in gruppo arriva la carica di Gandalf puoi fare un cazzo no più che altro è buono anche perchè un consiglio che prendi tu gli fai il dot quindi è mentre è Pudge lì che sta mannaillando con le braccine mini no e l'altro è oltre che mutato non può castare senza che usi il silencer poi prende il 300 danni a scoppio quando gli finisce è come il classico uomo sul cesso che incontra il t-rex che si muove e si prova a parare no con le mani sai che i giurasi park il 4 lo rifanno a Isla Nubara la prima si ci saranno le t-rex ma infatti lo script della trama è la natura avrà preso il sopravvento sul vental che è sul barco ci saranno l'irampicato vedi perchè la queen è buona con l'altro faggio si si la queen si però se ci fosse stato il silencer cosa faceva? si 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 moriva lentamente col pugnale nel cuore si 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 il silencer è buono perchè diciamo che secondo me guarda Pudge che bastardo di merda guarda noi come eravamo sbilanciati cioè ci stavamo sbilanciando eh andiamo nel fiume? no c'è Pudge da solo torna indietro il casino secondo me tra l'altro è l'hard carry più forte del mio secondo me di auto attack del fiume guarda che ma che brutto gank che abbiamo fatto siamo andati contro Pudge io failo lo stomp perdiamo Sciprio ci ritiriamo arrivano gremaggi Schillo viene bloccato dal bane preso e l'avevo ucciso guarda che strage una strage ci salviamo io levo guarda i ragnetti guarda i ragnetti ci fanno la torre più che altro sono buoni perché gli da gli da la possibilità di di praticamente non dare delle superfici di di alla torre e quindi i tuoi minion oltre che gli altri tuoi ragnetti danno addosso senza che gli minion o gli altri ragnetti vengano danneggiati perché avendone tanti puoi tenere un attacco su una torre per molto più a lungo anche a livelli più bassi vabbè però non hanno un cazzo di vita eh lo so però tanto tu non dai soldi alla torre se devi uccidere un player si ma la torre non più che altro anche a livello prendersi i soldi della torre la broodmother si prende sempre i soldi lei coi ragnetti che attaccano sto attacco non l'ho capito eh ah ci tira un po' un dot tanto più avrà l'altro non toglie niente niente top anche questa giù c'è le uniche torre le uniche torre che gli abbiamo fatto noi ce l'hanno pure denagliate pure neanche quella soddisfazione guarda che gli ha fatto la forza si qua cerchiamo di difendere lego muore di dot bene sta dominando cioè ti rendi conto arriva il night stalker è tornato è arrivato pure il night stalker 21 a 8 ah c'è Pudge guarda guarda ole chi si prende tara esplose in un attimo skill cerca di difendermi come al solito guarda un macello proprio gente che flutta che grida scappa così eh un massacro guarda che l'ha silenziato perchè con la merdata di sempre niente quando ce l'ha incontrata guarda guarda come l'ha ucciso muore di dot dell'urna no è dell'urna gli ha lanciato l'urna addosso e non è la prima volta cioè non sarà la prima volta che ci uccidano di urna avrà sclerato di brutto avrà sclerato di brutto skill guarda l'alchemist l'alchemist guarda che macello oh io stavo sclerando con l'alchemist l'alchemist io l'avevo già riportato perchè non ha fatto un teamfight di gruppo uno guarda che coglione russo del cazzo non si era fatto neanche la broodmother si faceva i teamfight quindi più o meno eravamo pari perchè se c'era anche la broodmother con loro erano cazzo tra l'altro si è usato la ulti senza senso perchè non lo sta rallentando no l'ha sprecata l'ha sprecata però vabbè poco male guarda chi stava arrivando budge da una lane all'altra adesso lo prende che trick eh l'alchemist arriva nei rinforzi ma velocissimo è stra veloce pure guarda che armadio ok gli arriva la torre non lo butti mai si è fatto l'urna si è fatto e cosa vuoi fare? guarda lego un massacro da piangere lego lancia la palla l'ha lanciata di culo e le ha fatte dai è andata bene questa con lego cioè ha giocato bene si è fatto quasi 1000 gold ha giocato veramente bene qua lego poteva rischiare di morire all'ultimo hd ha lanciato la ulti bene madonna il night stalker con quella roba guarda quanto è grosso sembra un gargoyle del night stalker qua ci sono io è inutilissimo è diventato a notte tra l'altro e vai guarda come attacca velocissimo tra l'altro si è fatto il mechasm ma un povero schillo guarda com'è triste la sola che picchi anche più lego taini purtroppo un pg che se non farmi bene guarda che straccia è come guardare impotente che ti violentano la moglie non so come dire no guarda guarda ti prego aiutami basta basta olè se la vincete non credo se la vincete è stato un recuperone epico degno di guarda 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 con multicast devastante di tutto di tutto guarda come devo tornarmene in base mi rendi conto mi ha fatto di dotte logre magiche non togli una sega quel dot cioè proprio tutte storte tutte guarda olè qua è bravo a tirare si è giusto tu non hai visto cannare uno ne ha cannati forse due di gaccia il lego anche uno dopo l'altro guarda false resistenze sai come tensing che fa i triangoli no per respingere cell però c'è la sua ulti equivale solo a temporeggiare niente 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 guarda guarda che coglione qua olè la media era di una kill ogni 30 secondi per l'ora pensa no ogni quanto si facevano una kill guarda lego una festa una festa vedi che ha usato con l'arpione poi arrivavamo in ritardo guarda 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 l'alchemist si era appena fatta ammazzare boom di nuovo 30 a 10 olè tutti una strage è proprio un plotone di sterminio ok ma pagi tra l'altro non ha niente di che l'unica cosa è che ti impedisce il farm è game over guarda guarda quella torre ciao e anche questa ciao pagi guarda quattro double damage quattro ed è grossissimo ancora più grasso perchè ha il coso ha il bloodlust da mettersi le mani nei capelli cioè fai conto che noi qua avevamo anche messo lì perchè lui sa esattamente dove mettere si si lui vi vede per i minion guarda scipio l'alchemist tira fuori i maceti ah qua l'avevamo visto lui non abbiamo capito la sua mossa guarda per tirarlo giù BOOM l'ho venuto prendere io con la ulti senti nether come è soddisfatto guarda che arma che ha una pinzatrice si fa così no tipo tira pugni pinzatrice si qua è l'unica cosa che il page non l'ho capita si era posizionato poi si è lasciato ben cari pensava che non lo vedesse vabbè 31 a 11 non è che ci siamo fatti una kill dopo 20 minuti tra l'altro nel stalker cos'è che si sta facendo la torre no no ma cos'era di item l'urna delle orce dai che mi stava a furire la battaglia non si è fatto la mano di mida scemo di merda guarda guarda che il solito operaio che sgombra le torre no ma perchè non si è fatto la mano di mida hai visto quanto guadagnavo con la furia si perchè con la battle fury e contro broodmother guadagnava tanto eh comunque adesso un 30 gold l'uno e beh però non ha manco gli stivali più che altro è scemo perchè sapeva che era invisibile la broodmother e sapeva di esser visto anche dagli altri membri dell'altra squadra non l'ho capito grande cioè mi spieghi se senza parole cioè qua noi avevamo anche smesso di litigare tra di noi eh guarda ognuno andava per i cazzi suoi era ammazzare un mob proprio era un delirio ormai ognuno stava zitto si speriamo finisca presto dai cosa aspettano basta cioè guarda la pagina no ti prego cosa sta facendo l'ha cannata perchè si è mosso per caso mi sa l'ego lancia un'altra bella palla ma ho sbagliato a lanciare però non l'ho capito perchè l'ha assorbita no perchè praticamente c'è un range guarda Scipio se non ha bersagli vicini se non ha bersagli vicini non non rimbalza lo sai eh no si lo so guarda quanto è grosso oh sta torre proprio niente è l'ora di farla finita anche col mid arriviamo un po' alla torre delle barracks no cazzo ma è grossissima è più grosso del Tide Hunter così pensa a farla sull'Elder Titan dai guarda Alchemist tira fuori i maceti ah qua io dico andiamola ad aiutare succede una rissa mi entra lo stompe in caso mi entra la ulti la ulti gli aveva fatto un male cane tra l'altro non si è visto guarda che casino niente non va giù eh ma perchè di notte minchia guarda che massacro per tirarlo giù e ora scappiamolo mi trovo una mezza occasione una mezza finestra proprio no subito ha comprato il rientro lui sa un fio guarda guarda mi ha schiacciati come vermi eh madonna che velocissimo adesso guarda guarda mutato di tutto cattiveria ingiustificata proprio col bracciale anche di Morrigan e stalker ci avevamo tentato un timidissimo contro push asfa sterminati guarda nella fontana era il nostro unico boss che ci meritavamo veramente piangenti nella fontana no no tristissima sta partita perchè me l'avevi fatta vedere eh perchè si meritava io usavo l'elder allora meritava per quello quindi avete prese più botte dell'orso avete ma abbiamo botte di sempre guarda l'alchimist l'ha lanciata bene stavolta e quindi scognamolo si coi tornati guarda che casino io l'abbiamo preso in un attimo io l'abbiamo mangiato il bene non è che l'abbiamo ucciso normale eh tipo quando butti un non lo so un panino come black hawk down come black hawk down come black hawk down quando cade l'elicottero ti ricordi i piloti come li fanno fuori assassati e bastonati troppa rabbia guarda qua i seguivamo ma accecati dalla rabbia più che altro non ci dovevamo sbilanciare così tanto visto quanto io ho tolto lo spettro solo che olè guarda guarda pace mi ha lanciato la ulti pur di adesso ti fa di doppio mi fa di ombra e lui scappa così eh e riesce a scappare ti rendi conto che trick che si è fatto Pudge? da piangere non lo so come se tua moglie incinta la coltellassero non lo so stessa disperazione si stessa tipo di disperazione ma intanto la broodmother che si lavorerà il bot dai che mister stun olè guardate i pugni però eh qua scipio uuuuuh per un pelo eh stava arrivando il nice stalk gli stava girando ma gli stava tirando anche il fireblast uuuuuh uuuuh un pugno uuuuh non c'è scappo non ne lascialo una passare ai poveri bzx warmer brooder what the what the sei stunnato da solo che sistema perché non l'ha lanciata l'ultimo ma un massaro adesso ti tiro la ganciata dopo fatta è così che bisogna fare in teoria la ganciata guarda guarda che delirio iniziare di ganciata è solo se necessario perché in teoria la ganciata si da dopo se tu ci puoi arrivare in stealth si si e iniziare col flash si si ma vabbè la ganciata si usa tipo se c'è i mid no il solito scontro che ne sono simplici tra l'altro lui non dà neanche gli stivali della fase lui va solo di rune haste tutto tutto rune haste no ti fa l'urna addosso non neanche gli stivali guarda che è brutto avere l'urna addosso eh cioè più che curarsi forse è un dota aggiuntivo però devi fare il kill per avere i dota eh baggio quante ne aveva fatte? 50 come minimo guarda che massacro però qua nego lancia una palla in mezzo forte niente guarda paggio guarda paggio è diventato dorato in cielo addirittura qua c'è scappata la mia ulti che non è stata davvero un cazzo decisiva li ha feriti eh poi li abbiamo finiti hai visto che faceva così con le braccia mentre volava nel gancio guarda che ha il dotto lui se ne va se ne va non ne riusciamo a prenderlo poi rimaniamo lì guarda io che flutto col pallone di negatività la forza guarda dai dai non scrilla guarda io poi vado in ritardo qua scrilla avrà non lo riesco ad attaccare E se ne va di nuovo in base Perché con lo scettro di Aghan in paggio Oltre a fare molti più danni Recupera la vita Lui recupera la vita che toglie Quindi si è curato e si è salvato Guarda come si prendono il gioco Del povero Katana Ampolle cominciano a volare le prime cose Che tolgono poco Cioè tutte sommate tolgono tanto Multicast Cioè arriverò alla base Tornadi Niente, niente E Paggia ancora una volta Arriva, fai cazzi i suoi Kill, un po' aziosi a Pusharsi le lane Un po' bene fai i cristalli Anche fa che lane Intanto lui si attiva la seconda skill E si fa i minion come se Un downfuss Aveva 3000 di vita senza il cuore E' come se lo avesse Con 21 stacca tipo 40 di forza Forse qualcosa di più Non ti rendi conto Come se avesse avuto il cuore Però di passiva Assurdo Niente Ma fa pochi danni Se tu vedi Noi eravamo paralizzati Cosa stavamo producendo? Nulla Skill nella giungla Un'altra runa Per giunta dell'invisibilità Perché ormai non serveva più Doppio danno Sapeva dove eravamo Quindi l'unica era varci Con l'invisibilità Forstaff Attenzione Madonna Niente Lo aggancia comunque Muore per la centesima volta Ma anche è scipio Eh ma l'ulti di pace Però guarda qua l'alchemist Da sola L'ulti di pace Con lo scettro di Aghanim Toglie parecchio Si è fatta la lama dell'ombra L'alchemist Hai visto? Testivali del viaggiatore Per andare da una lane all'altra A fare l'elettro Qua arrivano Pudge Però subito pronto A volergli dare una bella sistemata Tutti in un attimo Non avevano un award Su questo loro hanno sbagliato Perché Insomma Non potevano fare Invece qua noi lavoriamo Proprio Guarda che difficoltà Non capisco cosa aspettino Infatti Sono stati tanto veloci In 18 minuti Da arrivarsi in base No no Torno indietro alla grande Tanto Cioè Sapevo che Durò un cazzo L'Under Titan Eh Le prime award Timide E se si Arrivano Ma no Guarda quante ne avevamo già Le ho messe io Questa e questa Già Guarda l'alchemist Si fa Lama dell'ombra Non sta facendo Un brutto lavoro Adesso Merda Guarda qua noi come lavoriamo Guarda che Che pushata Che dobbiamo tenere Non ho niente da dire È proprio scandaloso Non sai cosa dire Non sai cosa ti aspetti Forse Che L'alchemist Da solo Gli fa la base Guarda Per una centesima volta Preso Esploso Lego lancia la palla Ma li abbiamo fatti bene Cioè il mio sacrificio Come al solito È servito a qualcosa Ma Paggia riesce a scappare Nessuno che lo stunni E invece lo stunna l'alchemist Arriva Lo lanciano addosso Rabbia proprio Guarda Col macete Non sa più cosa fare Riescono a uccidere Paggia Signore Se l'aveste fatto così Fin dall'inizio Svegli sareste fatti tutti L'alchemist era la prima volta Più che altro Ulti di Ulti di cose Ulti di Della Queen Ulti di 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 coso Di Di Lego Insieme Sono stati Che Visto la vita Come gli ha fatto Tutto il team Si sono vicini Guarda comunque Il punteggio Avete un po' Recuperato Certo Sei ironico Però abbiamo respinto un buon gank Su bot noi In quattro Cioè il mio sacrificio è servito Perché poi ho lanciato la palla Lego Olè Te pareva Madonna Ma gli toglie niente di auto attack Minchia hai visto quanto gli ha tolto La ulti però E poi lo riavvicina allo spacco Toglie il 35% Della vita massima Minchia è tanta comunque Infatti è buona contro quelli che hanno tanta vita Mi fa il link Ma poi gli slurli Poi i pestoni Io voglio farle infatti come combo Però Io me lo aspettavo troppo diverso l'elder Me lo aspettavo molto più tankoso Invece guarda che lui e il warlock Penso siano uguali Se lo prendono No vabbè dai Non ero la forza Eh lo so ma È come fosse un supporto Lo sta facendo da solo Guarda Skill viene a dare una mano Arriva la solita palla di Lego Eh bene se la dà gambe Non si fa paura forse Ma scoppia a skillo Ma c'è una rissa Lo stop Arriva Pronto Il Night Stalker è però È troppo una bestia Ma niente da fare Il bene vince sempre sul male Eh certo Guarda come lo salva Non canna un gancio Comunque Paggio Sia a salvare Che a prendere Si sta facendo il cuore Tra l'altro Lui Sì 3600 di vita 35 minuti di emozioni No no fidati Se tu l'avessi fatta Il cuore è altro Che di Terraska Due te ne dovevi fare Come con Axe Guarda Guarda Addirittura questa Noi ce la siamo fatta ridere Abbiamo detto Ma dove stiamo andando In mid C'è perché era fantascienza Non c'eravamo mai andati Noi in quella zona Che coglione Coglione Meno male Che ha la lama dell'ombra Cioè almeno Con i suoi errori Lui rimedia Con la lama dell'ombra Non lo so Come lo veda Avrà avuto La cosa La gemma Sì sì Infatti guarda Broodmother Contro Alchemist Di nuovo Guarda Il recupero dell'Alchemist Appugni Lo cicca Lo cicca Pudge Arriva Scipio Pronto a stilare Arrivo pure io Da nulla Guarda com'è grossa Si stunna Con il deficiente E Scipio la finisce Aveva la gemma Mi sa Sì sì Sento aria di recupero È nell'aria Aria di recupero Come quello Della MotoGP Non so come abbiate fatto Se l'avete recuperata Veramente 45 24 Oh Qua Io nel posto Ho sbagliato Qua ho sbagliato Vedevo che stavi per alzare Il piedino destro Ma niente Parola Pure col gancio Hai perso anche la roba Di dietro Umiliato Umiliato proprio Neanche Spogliato Delle proprie Boh Neanche quella È come se a Lion Gli tagliassero il braccio Cioè a Poverino E qua si decidono Qua si dicono No basta Bisogna fare le barracks E invece In qualche modo Vedi Riusciamo a Via Via No Come con la scopa A mandare via i topi Uguale Ma mi stupisco di skillo Che non è riuscito a fare niente Poverino Ma non perché lui È scemo È perché Mi stupisco che lui Riesca ancora A fare qualcosa Guarda qua l'alchemist E poi la queen of pain Non riesco a capire Perché non fa danni Ma perché sono troppo più farmati Ha 20 kill di più Vedi Guarda l'alchemist Stanno scappando E vuole Sì 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 Ci siamo fatti Il light Ora Togliamo Le teste Anzi Ma perché Paggio È buona all'inizio Ma in late game Contro dei carry Prende botte Perché non è un cazzo Ma che carry eravamo Dai Era solo skill Il carry Loro comunque Avevano un team L'unico cosa Avevano Non avevano Carry Tra nel night stalker Qua rimaneva paggia Ancora Il dito in culo Che aveva il cuore Con 4300 di vita E scettro di aganim È quello che gli fa far Tanti cambi Noi però Non ci perdiamo D'animo Ah e decidiamo Di farci il roshan Se non sbagli Oppure Failandolo Metto un award Non si sa mai Ne metto pure un altro Da sto lato Viene distrutto Arrivano da sinistra Allora Ma tra l'altro Io volevo farlo roshan Ma quando lo voglio fare Non intendo io A questa velocità Da lombrico Voglio farlo Che fosse venuto L'alchemist Con i maceti L'avrebbe fatto E' una lotta L'ultimo sangue No se lo fa E' un forte Ma perché Guarda un po' Che cosa ha lui Dite Ha il basher E la corazza d'assalto Corazza e furia La furia non è Un augenato Comunque da 4300 Ma qua noi Per aver fatto Un pochino I galletti In attacco Lo stiamo pagando Guardalo Ma perché lui Ormai E' partito E' partito Basta Secondo me Il Alchemist E' uno dei carri Più forti Pudge chiama Il report Della Groot Perché non si era unita A un teamfight Comunque Pushava solo Il lane Male Da sola Ti brucia il culo A perderla Come l'abbiamo perso Noi Che avevano 70 kill E loro 30 Hanno vinta Aspetta Aspetta Ora qua Un altro teamfight Quindi Si sta preannunciando Guarda come C'era di una gambe Perché cosa vuoi fare Sono troppo più forte Ah si vuole fare lo scettro Schillo Loro Hanno proprio il sangue Negli occhi Dopo questi affronti E' come quando Sel veniva ferito Gli dava il pugno Che faceva Che è tornato a livello 2 Pudge ha perso un po' di stack Esatto Uguale Guarda Guardalo Guardalo Ma l'ha salvato Guarda quanto toglie Secondo me Gli autoattacca È uno dei più forti Devastante E trant'è che qua Lo bloccano Meno male Che arriva Scipio Che li stila Tutti Tutti Di stila Io ho sempre presente Infatti Non serviva un cazzo Però Ma guarda che Scipio Comunque sarà Cioè qua Si è beccato Ma lì a combicina Ma faceva tutto L'alchemist Col cazzo Che uno di noi Toglieva così tanto Ma il team Noob Gli brucia A perdere Testa di cazzo Eh beh In effetti Comunque A parte lui Gli altri fan cagare Guarda l'alchemist Guarda la velocità Guarda la brood Ole Si prendono qualcuno Madonna Guarda Guarda che gli faccio La ulti Madonna E scoppio di ulti Hai visto quanto Gli ha tolto la ulti Tra l'altro Cioè Stavano stati Dupi Eh ma l'ha ucciso Altra che il 35 Eh no Toglie il massimo 35 della vita Massimo Avrà avuto 34 Quando hai 35 Muori Devastante Ti avete fatto Le barracks Loro staranno scherzi Guarda qua Festa Proprio Mentre tu eri a dormire Nel letto Continua Continua Non arriccare Non arriccare No Perché loro Sono tutti morti Tranne nel letto Quanto no Ma guarda Di auto attack Fa impressione Di auto attack Ma aveva la missa Anche lo spirit Farebbe delle cose Ma la missa Non aumenta La velocità di attacco Lui è solo Iper pietra Con l'iper pietra E la ulti Lui attacca così Ti puoi immaginare Assurdo Qua si cercano Ora di approfittare Ma l'ego lancia La sua solita palla Provinente Così proprio Si gira La lancia E riscappa Poi ovviamente Qua eravamo pieni Di gioia Pieni Con le lacrime Di felicità E gli rubiamo Anche la prima runa Finalmente Dopo 18 runa Che faggio si prende Porto blooders Riport Brood Please Qua avevano anche loro I problemi intestini Qua ormai Noi non litigavamo più Qua era pace Era un header Guarda 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 Cosa si sta facendo Gli entra il multicast Per tre Ma non gli fanno un cazzo Ma un altro Lo sollevano Il cazzo Si blocca il computer Se lo fanno qua Dalla potenza Stava crashando Anche Windows Con quanta rabbia 90 secondi Loro dovevano Approfittare di adesso Loro tanto Dovevano approfittare Però guarda Come avevano Pushato le lane Cioè noi Gli avete fatto Con il top Proprio Gli eravamo Mangiato Ma infatti Fatti i due rucks È praticamente La pietra tombale La pietra tombale No no Hai vinto Perché non ce la fanno Perché i mega creep Su due lati Non ce la fai Aspetta La perdete Madonna Il finale Il gran finale Non è possibile Che l'abbiate persa Non ci credo Se eravate in 5 Ve li facevate E lui da solo Se li stava facendo tu Guarda come metto Un sacco di Di ward Io eh Come sono operai Io non sei Faccio lo stomp La spacca Ero al proletario Guarda Ero al proletario Al massimo Quando finisco di lottare Tiro il L'affare che fa Le cose su terre Esatto Con la pinza Hai lavorato sulla schiena Anche bene Wardava da dio Ci avevano tutto il mid Wardato Gli stronzi Tutto il top Guarda che vi sono Serpi in seno Però previsso Qua noi Guarda che ci muovevamo Come criceti impazziti 14 secondi All'alchemist Ma infatti Io qua dicevo No raga Non facciamo niente Senza l'alchemist Non muoviamoci Senza l'alchemist Ma l'alchemist E' partito come un idiota E' partito come un deficiente Fino a mid game Perché altri mi sarei fatto La mano di mida Perché miglia Lui ha cominciato A salvarsi Con la lama dell'ombra Perché ha sbagliato Anche con le ampolle Ma invece di farsi killare Diventava invisibile Quelli le Ward Non le avevano Ne ha cominciato a fare ora Per l'alchemist E lui si salvava Si riusciva a gancare A volte la Brood Madre E visto poi con la furia I ragnetti Quanto gli davano Minchia Troppo Eh lì l'ha farmato La Brood Con tutti quei ragnetti Lui metteva il dot Si scoppiavano tutti Eh con la furia Della battaglia E l'ama dell'ombra Non so come cazzo Però si è riuscito A farsi così Ma perché ha una skill Passiva Che gli permette Di fare i soldi La mano munita Lui ce l'ha come skill La vedi la terza Si Olè Più soldi Madonna Lui è la Mjolnir Adesso l'alchemist E noi Guarda che gli seguiamo loro 47 a 35 Guardalo Guardalo Ah qua E' sanguinosissimo No Scemo Doveva girarsi Che altro Si sarebbe dovuto Fare qualcosa Per reccare la vita Si è comprato Rietro Colpo di scena Ma non si poteva fare L'offerta di Vladimir Non moriva E se avesse avuto L'offerta Non sarebbe Niente da fare E noi qua Abbiamo fatto Una cosa Che non è Ne inferno Ne paradiso Cioè guarda Dove stavamo Dagli antichi Perché Con loro lì No Non ci credo Che scemo Che scemo Si è messo lì A farsi Guarda qua Guarda qua Guarda noi stavamo Combattendo a livelli Bassissimi No Tipo la liga Dei pokemon Era salvato Questa la prende Con me Bastardo Lego lancia La cosa Merda Che scemo Niente Gli ha fatto L'urlo di scipio Niente Gli avrà tolto due Un massacro Un massacro Arriva L'alchemist Devasta Di pugni Ci ha dato Neanche Quei maceti Guarda che Se lo prende E qua c'è un uno contro uno Storico Guarda 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 Chi ha una racchina Solo con la destra Big up Cioè gli aveva tolto Mezza vita Tra gancio e score Ha recuperato tutto Tutto Se si fosse fatto Una cosa Di Vladimir Guarda che Altro Pugni 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 Con tutto Attaccavamo Anche se Potevamo lanciargli Una bottiglia Lo facevamo noi Ma si porta dietro L'ogre Niente Unstoppable Secondo me Se dava addosso La Broodmother Se la faceva anche Ma adesso Ormai è finita L'UBS È finita Ormai È Perita L'ego Qua sono Sbrano Ovviamente Però è resistente Sì sì Può essere un alchemist Contro tre di loro Ho resistito bene Anche l'ego Si compra e rientra Così Loro hanno il caos Ormai in base La loro grida Fiamme Crollano i campanili Io e Schilla Andiamo in mid Diciamo Ma non c'è nessuno Torniamo indietro E sentono altri E sentono indietro Ridendo Anche Dopo duemila Insulti Ovviamente No Funziona sempre così Quando si perde Quando si perde È la colpa Sempre di tutti E di tutto Quando si vince Grande Facciamoci il rush A Bersport Qua loro Il delirio Ma perché Hanno troppi Minion Mega Hanno Avete anche I mega Creep Che sono Ancora migliori Dei creep Grossi Dei lati Guarda quanto è grosso Un creep vostro È enorme Sì sì È tipo il Tidehunter Ogni creep GG fast Chiedono Ce la facevano a tenere Chiedono il GG fast Loro Guarda un po' Con che culo Gli facevano i minion Non va bene Cioè noi non ci riusciamo A fare il rush A me Comunque Ti rendi conto Dello squallore Come un gruppo Guarda i minion Sì sì Il delirio Il delirio Guarda Guarda Nightstalker Ma se ti facevano Non riuscivano Guarda Sì Perché vuole stilare La last Sì Si vuole fare Il rush Di last Io gli dico A skillo Prendila te Perché a me È un po' Più resistente Loro Tiny Vabbè Chissà la sola Doveva prendere Tanto l'Alchemist Era qua No Ed era fermo In Fontana Ora io gli dico Ma cosa fai L'Alchemist Guarda la sua risposta Aspetta Aspetta Storica Stoica Anzi Se voglio citarti Noi qua Attacchiamo Ma che cazzo fa L'Alchemist Andiamo Raschillo Arrabbiato Non l'ho fatta vedere La mia frase Vabbè Insomma Io gli avevo detto Che cazzo fai in base E lui ci fa Look Tipo Ci pensa nei creep Adesso Ed è esplosa Un secondo dopo Infatti L'ho aggiunta Agli amici Tutti gli altri Poi l'hanno Noi L'abbiamo raccomandato Come dei giocatori L'Alchemist Ma io l'avevo già riportato All'inizio Non l'abbiamo potuto Raccomandare L'avevo riportato Io Ha fatto un 11-11 Perché aveva fatto Tipo 0-11 Final game Sì Non ha fatto tante kill Però quelle che ha fatto Sono state Le fate tutte all'ultimo Le fate tutte all'ultimo Le sue 11 Storica comunque Storicissima